L'anno prossimo saranno 70 anni alla nascita di Massimo Troisi, il nostro concittadino più illustre. Il Consiglio regionale ha finanziato con 300.000 euro il premio Massimo Troisi grazie al lavoro dell'onorevole Mario Casillo, del Presidente della Regione De Luca e ovviamente di tutto il Consiglio regionale. Una scelta per continuare a credere in un premio importante per i giovani che si apprestano all'arte e anche tante novità che scoprirete l'anno prossimo.